Prenditi una laurea perché non ti sa mai, metti che noi moriamo, come se morì mia madre con la laurea, non ti capisco questo ragionamento di mia madre e alla fine ha avuto ragione, la sua perseveranza nel farmi prendere questa laurea mi è servita per entrare a far parte del mondo della televisione che non avrei mai detto. In realtà tu hai una grande passione che è quella del teatro. Ma pensavo altre, cioè che non si chiama. Quella del teatro, infatti non a caso il teatro pubblico qui è sempre dovuto che tu fossi qui perché tu comunque hai organizzato diversi laboratori di teatro nelle scuole, sei stato anche autore di trasmissioni e di eventi televisivi locali e dove hai lavorato? Come nasce questa passione del teatro? Allora la passione del teatro nasce a scuola perché il mio professore d'inglese che poi era un regista teatrale scomparso qualche anno fa, scala Solfato è uno dei registi storici del vernacolo dialettale.